buongiorno a tutti gli amici di toktok tunisia oggi come vedete un video un po particolare insolito ma decisamente gustoso per quale motivo oggi mi vedete qui piena di tante buonissime pietanze dolciarie perché semplicemente insieme a Mirko abbiamo pensato che essendo proprio nel periodo del ramadan sarebbe stato molto carino farvi un video in cui vi parlavamo appunto dei dolci tipici parte dei dolci tipici e fare un connubio culturale con quelli invece della nostra zona che sono quelli siciliani sì perché a dire la verità ho imparato da poco tempo come si fanno le scialde dei cannoli siciliani i nostri famosissimi nel mondo cannoli siciliani e quindi a casa ci dilettiamo a farli insieme per mangiare qualcosa che ci ricorda un po il nostro territorio li facciamo assaggiare anche agli amici e quindi non potevano mancare i miei cannoli siciliani ma oggi insieme a Mirko faremo una colazione insolita perché abbiamo deciso di assaggiare questi dolci tipici e soprattutto nel mio diario di bordo perché io tengo un diario in cui scrivo tutto tutte le mie emozioni le mie avventure qui in tunisia sto cominciando a scrivere qualcosa relativamente al al periodo del ramadan perché sapete bene che il ramadan dura all'incirca 29 30 giorni per il calendario islamico parliamo del nono mese appunto vediamo ora vi darò qualche dettaglio in più e durante il ramadan ci siamo accorti qui in tunisia che tanti dolci vengono esposti e venduti o fatti direttamente in casa e sono dolci della tradizione tipica tunisina quindi a questo punto io inviterei Mirko a venire qui con me e hai visto siamo arrivati ma quante belle cose quante belle cose allora tu me le dovresti spiegare a uno a uno perché tranne i datteri che conosco benissimo e le fragole tutti il resto me le dovresti spiegare tu giusto e allora direi di cominciare così magari li assaggiamo preparati un coltello eventualmente la carta ce l'abbiamo perché questi dolci tipici tunisini sono davvero gustosi e anche abbastanza dolci sono dolci questo è sicuro perché già abbiamo qualcosa assaggiato si diciamo che per per la dieta non sono molto indicati per ogni tanto si può fare uno strappo ma hai fatto anche i cannoli si ho fatto i cannoli brava brava la ricetta della zia silvana famosissima nel mondo la ricetta della zia silvana la troverete su tutti i canali no no scherzo scherzo ciao zia ciao zia no 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 va bene avanti allora si partiamo subito vedi queste ciambelline prendiamo così ciambelline che sembrano con sesamo con sesamo quelle che mangia omer simpson nella centrale di springfield la vedete è la versione questa è la versione tunisina queste ciambelline si chiamano yoyo e praticamente sono fritte e risultano croccanti fuori e morbide dentro ovviamente c'è il sesamo poi sono immerse in acqua e zucchero miele insomma acqua di rose c'è di tutto perché non è fatta anche con l'acqua di rose per questo non vedevamo in giro tutti questi ambulanti vendere l'acqua di rose ci hai fatto caso perché si usa tantissimo nelle ricette tunisine io la voglio assaggiare pure però me le devi tagliare metà ecco bravo fa il mio fido collaboratore anche perché è raro riuscire a mangiare questi dolci forse non sono neanche troppo conosciuti nel mondo forse giusto qualcuno così vabbè ci sono tante versioni simili questa non è niente male buono buono io adesso ci metto un po di caffè su caffè amaro perché se quello è zuccherato questo deve essere amaro per compensare troppi dolci anche a me un po di grazie mi piace questa colazione in compagnia comunque ragazzi seguiteci sulla nostra pagina facebook youtube e instagram quindi seguiteci 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 si come ha detto mirko abbiamo sia la pagina con il canale youtube quindi vi invitiamo iscrivervi al canale cliccare la campanella e seguirci e poi su facebook talk talk tunisia mi raccomando sempre 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 però anche oggi una bellissima giornata primaverile calda vedi già siamo in con maniche corte siamo un po bianchi ma adesso a poco a poco ci abbronzeremo forse andiamo bene rimanendo in tema di dolci ti dico una cosa allora questo io l'ho assaggiato una volta a cestino ti ricordi di quello buonissimo certo allora questo si chiama taif taif perdonatemi per la pronuncia vedete che sono dei capelli d'angelo facciamoli vedere bene aspetta si vai così vediamo se mi aiuto io stessa sono dei capelli d'angelo poi farciti con tutta la frutta secca e poi c'è il pistacchio mandorla mamma mia ragazzi che bontà allora la prima volta che l'ho mangiato ce l'ho offerta una signora ti ricordi ha aperto questa scatola e ci ha detto assaggiateli e noi abbiamo preso questi cestini con questa pasta che sono proprio capelli d'angelo croccanti croccantissimi quando le abbiamo assaggiati ci siamo guardati in faccia io e mirca abbiamo detto no vabbè ma non si toglie dalla bocca dentro che ci è buonissimo allora dentro è tutta frutta secca quindi c'è sempre miele sì perché c'è questa frutta secca che viene tritata con il miele sempre con l'acqua di rose buonissimo ma tra l'altro grazie alcuni mettono anche per farlo ancora più dolce no come se già non fosse infatti mettono anche la crema di arachidi l'abbiamo mangiata con la crema di arachidi e con la crema di arachidi e sempre le mandorle pistacchio farciscono anche i dat i datteri li aprono a metà tolgono il nocciolo gli mettono dentro questa crema di arachidi con tutte le noccioline le mandorle tutte tritate e poi gli mettono il pistacchio di sopra se le mangiano noi l'abbiamo mangiata a casa degli amici di xarelal buonissima questo la famiglia ti luke ti luke salutiamo io mi ricordo i cognomi ormai con i nomi sono tutta una cosa anche se sono difficili andiamo avanti e ti volevo far vedere questo triangolino chiamato samsa questi qua guarda assaggia facciamo sempre vedere così allora questi triangolino i triangolini sono farciti praticamente sempre con la frutta secca tritata in questa sfoglia che sembrerebbe simile a quella del brick dove viene avvolta a triangolo con più strati l'ultimo strato viene inserito all'interno appunto della fessura del qui del del triangolo e viene ho fatto fritto fatto al forno che c'è sto dentro sempre frutta secca tritata infatti sempre frutta secca sì sì buonissimo perché questo brick poi c'è il miele comunque viene spennellato con il miele con l'acqua sì dove con lo sciroppo di zucchero perché ho preso qualche appunto la pasta appunto è simile alla sfoglia mandorle tritate semi di sesamo e viene fritto o al forno ecco ma nel frattempo io vi volevo dare anche qualche prezzo perché ogni tanto brava i prezzi sono importanti i prezzi allora siamo qui nei samsa dove noi li abbiamo comprati allora noi li abbiamo presi al chilo sono 23 23 dinari e 500 questo triangolino questo triangolino 23 dinari sono 7 euro e 50 circa al chilo questi poi invece ecco questi qua che abbiamo già mangiato ne abbiamo un'altra questo qua con la frutta secca al chilo è 29 e 90 29 e 990 dinari sì quasi 30 dinari 30 dinari quasi 9 euro sarebbero 9 euro e qualcosa di circa sì buonissimo io io invece quanto l'abbiamo presi 12 12 12 12 dinari al chilo quindi poco meno di 4 euro io io bene nel mio diario di bordo avevo già inserito di fatto cos'è il ramadam ma sto cercando di approfondirlo quindi approfittando appunto di tutte queste splendide di questo splendido pasto posso dirvi che è uno dei momenti più importanti nella vita dei musulmani il digiuno di fatto non è solo un digiuno ma è una mera e propria purificazione dell'anima del corpo che diciamo è più un momento religioso che entra a far parte della vita quotidiana un momento in cui bisogna veramente lasciarsi scorrere le bruttezza della vita e concentrarsi di fatto su quelli che invece sono gli insegnamenti della religione che comunque sono tutti insegnamenti universali quindi che non sono solo relativi alla religione musulmana che sono quelli del vivere bene del volersi bene del compiere azioni sempre positive nei confronti degli altri ecco questa purificazione si chiama saum ed è dell'appunto la commemorazione della prima rivelazione del corano a maometto da parte dell'angelo gabriele detto questo il calendario islamico è basato sul moto della luna e quindi parliamo di 12 mesi lunari di 29 o 30 giorni 300 appunto sono 354 giorni e ogni 3 anni un giorno in più proprio come la pasqua cristiana ed ebraica che sappiamo bene non ha una data fissa ma varia annualmente si celebra appunto nel nono mese dell'anno non a caso ramadan ma significa proprio questo sono esonerati dal digiuno gli anziani le donne in gravidanza in allattamento ciclo i diabetici malati e anche le persone che diciamo sono malati terminali però parlando con un caro amico tunisino lui mi diceva che se tu non puoi rispettare per determinati giorni il digiuno del ramadan per i motivi che vi ho poc'anzi detto è anche possibile anzi necessario quasi un po' obbligatorio donare qualcosa a chi ne ha veramente bisogno quindi fare del cibo e portarlo direttamente da persone che si sa che sono magari in difficoltà economica aiutare qualcuno che ne ha veramente bisogno per strada o comunque qualcuno della nostra famiglia questo di fatto compensa la mancanza del digiuno nel ramadan ora io a questo punto chiamerei Mirko perché nel frattempo si è spostato perché voleva prepararmi dell'altro caffè più caldo che lui ci tiene a queste cose Mirko facci vedere che cosa stai riprendendo la pasta sfoglia questa sfoglia qui sono brati giusto? sì molto devo dire che la fanno molto bene vendono un tipo di pasta sfoglia più piccolina tipo i danubi non so se è lo stesso dolce comunque e questa è la versione big che è buonissima la mattina abbagnata nel latte ma questo tipo di pasta è anche buona per fare i cornetti sì infatti è molto sfogliata la puoi vedere bene qui ci sono tutti i nostri dolci le nostre fragoline che tra un po' andremo a mangiare con lo yogurt ma eccola qui scusate questa digressione visto che stavamo parlando di dolci ma ora continueremo a farlo eccola qui cioè io vado al supermercato e cosa trovo? la baristella ma che cos'è? allora la crema bianca con all'interno pezzettini croccanti come se fosse proprio un kinder bueno già è aperta e consumata no tutta no un po' l'abbiamo assaggiata l'abbiamo già mangiata sì è bella che è andata è la per farla vedere sì buonissima però non la mangeremo già a pranzo e a colazione magari per merenda allora facciamo vedere da vicino quindi questo allora questo qua si chiama taif ed è fatto con i capelli d'angelo pistacchio e frutta secca qua c'è metà di uno yo-yo che abbiamo mangiato all'inizio qui siamo sui samsa fatti a triangolo questa è la zona baklava qui i prezzi aumentano perché sono dei dolci molto più lavorati ma molto buoni devo dire quelli che a me piacciono e qui? e qui abbiamo i miei cannoli che se non li mangiamo subito ci dicono addio addio infatti 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 bene ma allora a questo punto visto che abbiamo assaggiato i baklava fatti nelle due differenti modalità di pasta filo ragazzi questa è tutta pasta filo a strati ora a questo punto Mirko assaggerà i baklava con la mandorla dentro solo mandorla mi sacrifico Sara lo faccio per te e per il popolo del web grazie comunque mi ha portato il caffè caldo sono gentile molto è buono vero aspetta vi dico i prezzi sì questo qua 59 dineri al chilo è quello solo con le mandorle 59 al chilo ecco bravo 59 pari a meno di 18 18 euro quasi 20 circa sì neanche ce li va bene questi sono i pancake di Mirko questi sono pancake speciali li faccio io tutte le mattine bravo tre uova un po' di farina un po' di latta occhio quindi a sentimento le quantità sono a sentimento bravo un po' di lievito ma poco 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 e zucchero poco poco però dai che belli vedi che sono belli dai che sono belli bene Mirko come ti dicevo nel frattempo mi sono attaccata i capelli ragazzi perché c'è caldo oggi abbiamo due pasti durante il ramadan il suhur che viene fatto appunto prima dell'alba ed è solitamente un pasto molto leggero ecco per esempio vengono mangiati i datteri un dattero oppure un bicchiere d'acqua uno yogurt anche se in base ai territori è anche possibile che si faccia mangiando anche dei cereali comunque qualcosa di molto leggero non sicuramente come noi oggi poi l'iftar che invece è il pranzo più importante perché viene fatto appunto dopo il tramonto ed è formato da tre portate la prima è solo quella del dattero che serve per interrompere il digiuno poi successivamente ci sono le altre due portate solitamente i datteri devono essere mangiati sempre in numero dispari quindi uno tre cinque sette poi bisogna bere l'acqua a piccoli sorsi e cominciare appunto la preghiera del Maghrib poi si incomincia a mangiare e quindi per esempio mi sono insegnata qualcosa di buono si fa la zuppa di lenticchie che noi tra l'altro abbiamo mangiato pollo, avena e patate si accompagnano con bevande fredde anche magari zuccherate ma non per abbuffarsi ma più che altro per rinfrescarsi soprattutto se il ramadanna avviene per esempio nel periodo estivo e per ricaricarsi le energie di notte è concessa la frutta oppure un dolcino oppure bere dei succhi di frutta ogni pietanza va servita e mangiata sempre con decoro e moderazione perché appunto non è che tu non mangi la mattina e poi arrivi dopo il tramonto e ti abbuffi no non funziona così poi ho visto tra l'altro e questo ci tengo a dirlo che ci sono delle varianti perché non è che tutti i paesi islamici hanno di fatto lo stesso tipo di cucina lo stesso tipo di modalità di consumo di determinati pasti per esempio nel Bangladesh invece a differenza della Tunisia o dell'Algeria fanno un quantitativo di cibo astronomico cioè mangiano tantissimo e invece nella parte dell'India del nord mangiano il riccio con carne e legumi quindi stoppano di fatto il ramadanna in questo modo con una pietanza tipica che è fatta di riso carne, legumi e anche cocco mentre siccome nel sud ci sono per esempio più vegetariani preferiscono invece mangiare quindi il budino fatto a base di latte e poi comunque dopo si passa sempre a dei cibi fritti invece quelli più ristretti quelli che tengono di più che hanno proprio più restrizioni sono quelli dell'Iran l'Iran mangiano questo il cai il tè pane il pane che sarebbe il formaggio la verdura fresca qualche dolce e ovviamente gli onni presenti datteri che ricordiamo qualche volta facciamo una bella ricetta con i datteri tu che dici? va bene dopo che tu ci hai illustrato ci hai spiegato tutto il ramadanna e come avviene appunto come avvengono una parte i loro pasti quindi anche i dolci tipici io vorrei fare una colazione con calma quindi vorrei salutare i nostri amici di Tok Tok Tunisia e invitarli a seguirci sulla nostra pagina Facebook YouTube e Instagram si mi raccomando ragazzi seguiteci aiutateci a fare crescere la nostra pagina il nostro canale YouTube condividete invitate gli amici a registrarsi e quindi a seguire i nostri video e se avete delle indicazioni precise scrivetecene nei commenti così magari possiamo avere degli spunti particolari per fare dei video e soprattutto seguiteci sulla pagina Facebook Tok Tok Tunisia mi raccomando e ci vediamo al prossimo video ciao e tante sorprese future per voi e non dimentichiamo ciao ciao